Allora io chiederei cortesemente a tutti di accomodarsi e anche chi sta entrando di accelerare il suo ingresso così diamo inizio ai lavori anche perché contiamo di chiudere entro le 17.30 perché poi a seguire c'è un altro incontro. Intanto benvenuti a tutti a questa quarta edizione di Biennale Democrazia. Siamo ospiti in questo nuovo spazio che è uno spazio donato alla città nel cuore della Cavallerizza e colgo così l'occasione subito all'inizio per salutare il progettista di questo spazio che è in sala che è l'architetto Agostino Magnaghi che ho beccato in terza fila e quindi devo dire è la prima volta che utilizziamo questo luogo, è effettivamente un luogo interessante, in un posto affascinante e quindi siamo anche felici che Biennale Democrazia sia ospitata e inauguri questo luogo in una manifestazione così ampia. Manifestazione che è la sua quarta edizione, è un forum che come ricordavano all'inaugurazione il sindaco Fassino e il nostro presidente Gustavo Zagrebeschi è un forum unico nel panorama nazionale e internazionale e all'interno di questo forum nasce questa iniziativa organizzata dalla Fondazione Ordine Architetti nel solco di una ormai consolidata tradizione di collaborazione con Biennale Democrazia. Una scelta della Fondazione che all'inizio è stata ritenuta quasi necessaria per far comprendere meglio ai cittadini, visto che Biennale si rivolge a un pubblico ampio e quindi ai cittadini e al pubblico di Biennale, l'importanza e la responsabilità etica dell'architettura e degli architetti. Questo nell'intrecciarsi delle diverse dimensioni della democrazia. Fondazione ha cercato di farlo in questi anni attraverso il racconto di esempi concreti e oggi ne è appunto testimonianza, l'organizzazione di workshop, dibattiti, eventi di pratica democratica dell'architettura e questo anche con la contaminazione di altre arti e di altre discipline. Cito solo alcune delle iniziative che sono state fatte in queste tre edizioni di Biennale della Fondazione. Abitare la città, i luoghi urbani della democrazia, architettura per pochi e architettura per molti, design ecodemocratico, città bambine. Quindi già dai titoli si capisce il filo della ricerca che la Fondazione ha cercato di portare avanti in queste edizioni all'interno di Biennale e l'iniziativa di oggi si inserisce in questo filo di ricerca. Il tema di quest'anno di Biennale è il tema dei passaggi e quindi chi costruisce la città, che è l'iniziativa che a breve inizierà in questa sessione, pone una domanda, una questione e la volontà di attivare un confronto mettendo casi studio in dibattito, che nasce dal partnership della Fondazione con il Goethe Institute, che ringraziamo per la collaborazione e per il supporto a questa iniziativa, raccogliendo un testimone di un dibattito lanciato nello scorso anno del Goethe proprio sul tema chi costruisce la città e che ci è sembrato particolarmente adatto per essere ripreso nella cornice di questa edizione di Biennale e anche come uno dei momenti dedicati al gemellaggio Torino incontro a Berlino, che per tutto l'anno caratterizzerà il panorama culturale della nostra città. Chi costruisce la città è una triangolazione di esperienze tra città, Berlino, Milano e Torino. Sono tre diversi casi di trasformazione urbana che segnano il passaggio da una pianificazione storicamente e tradizionalmente autoritaria verso nuove forme di progettazione urbana, promossa attraverso la partecipazione non convenzionale, quindi una partecipazione che non è costruita in forma istituzionale ma che assume in questo suo percorso valori fondamentali come la coabitazione tra generazioni diverse, l'ecologicamente sostenibile, l'assenza di barriere architettoniche, l'interculturalità e l'integrazione sociale, quindi paradigmi che in realtà si distaccano e sono anche in alcune situazioni in antitesi con la tradizionale pianificazione urbanistica e territoriale. È un processo che si può definire un percorso di urban social innovation alla ricerca o al ritorno di una sorta di democrazia urbana capaci di recuperare la dimensione comunitaria e relazionale del vivere in città. Io chiudo questa brevissima introduzione ai lavori e introduco a questo confronto Stefano Boeri, architetto che vive e lavora a Milano, professore ordinario di progettazione urbanistica presso il Politecnico di Milano, ha progettato numerose architetture in Italia e in campo internazionale, una fra tutte noto e premiato Bosco Verticale di Milano. Ha fatto parte della consulta architettonica, per le linee guida dell'Expo 2015 Milano, è stato direttore della rivista Domus, direttore artistico del Festival Internazionale di Festark e oggi è direttore artistico dell'Estate Fiorentina per il Sindaco di Firenze. Segnalò anche un'esperienza da pubblico amministratore dal giugno 2011 al marzo 2013, è stato assessore alla cultura, al design e moda del Comune di Milano, quindi un profilo che è ricco di esperienze professionali, di esperienze culturali, scientifiche ed impegno pubblico, quindi chi meglio di lui ci può introdurre a questa questione che oggi abbiamo messo in campo? Chi costruisce la città? Stefano Boeri. Grazie. Io vorrei in questa introduzione provare a suggerire a che poi presenterà una serie di casi reali di costruzione di spazi urbani, di spazi di socialità soprattutto, di spazi di vita, tre possibili chiavi. Stiamo parlando di chi costruisce la città innanzitutto, non stiamo parlando di chi progetta la città, non stiamo parlando di chi abita la città, non stiamo parlando di chi governa la città, che non significa che queste quattro cose non siano sostanzialmente interrelate. Significa che però scegliere come punto di discussione le risorse, le energie, le modalità, le regole di costruzione della città ci pone in una prospettiva molto particolare. Allora se proviamo a accettare questa prospettiva, a me sembra che noi guardando la città europea, il territorio europeo, che mi sembra un campo sufficientemente esteso e variegato di esperienze, di fenomenologie, possiamo osservare tre grandi modalità di costruzione. Ciascuna di queste naturalmente espuria, non è definibile secondo un perimetro netto, ciascuna di queste ha a che vedere con un rapporto tra la sfera del pubblico e la sfera del privato, ciascuna di queste ha a che vedere con un rapporto particolare con le pratiche di pianificazione e le pratiche di progettazione. Ciascuna di queste implica anche un'idea politica di relazione tra Stato e mercato, di relazione con la grande questione del mercato. In modo molto sintetico, e poi cercherò magari dopo alla fine di riprendere anche alla luce di quanto avremo tutti sentito, perché oggi al centro di questa discussione stanno una serie di esperienze vere, vive, concrete. In modo molto sintetico queste tre forme a me pare erano essere. La prima è una modalità di costruzione della città, per così dire, caduta. Sono pezzi di territorio già costruiti o in attesa di essere trasformati, che vengono acquisiti con modalità diverse, acquistati, prese in concessione, da alcuni grandi soggetti della finanza, del mondo del real estate internazionale. Io due settimane fa ero a Cannes, al MIPIM, che oggi è di fatto a livello europeo certamente la più grande fiera del real estate, e era la seconda volta che mi capitava di partecipare alle giornate di discussione del MIPIM, e devo dire che la sensazione che ci sia oggi una competizione tra alcune città, interessante anche la geopolitica che si era messa in scena al MIPIM, la Russia era sparita, che pure l'anno scorso era ancora molto forte, c'era una presenza molto meno forte da un punto di vista dell'offerta di spazi da parte dei paesi del Golfo, e c'era invece un ritorno fortissimo dell'Europa, ma di un'Europa particolare. Era fortissima la Norvegia, era fortissima la Turchia, ed era un sistema di città di media dimensione, cito Lione, cito Lille per darvi un'idea, che si candidano ad essere luogo di atterraggio di capitali prevalentemente internazionali, in alcuni casi legati anche ai fondi sovrani, che oggi più che rischiare progetti di sviluppo tendono ad acquistare porzioni di città. Conoscete il caso di Porta Nuova, visto che è stato citato, Porta Nuova ha un pezzo di Milano costruito tra il 2005 e il 2015, è di fatto dopo la vicenda della Bicocca, che è un quartiere industriale, proprietà della Pirelli, dismesso nel corso degli anni 80 e 90, è di fatto affidato a un grande operatore pubblico come l'Università, è affidato alla mano di un unico grande architetto, che voi conoscete bene, Vittorio Gregotti. Bene, il caso di Porta Nuova a Milano, qua vicino, è il caso di una realtà totalmente diversa, prima una grande frammentazione delle proprietà, più di 32, arriva un unico operatore, le compra tutte, affida architetti molto diversi la realizzazione di questo spazio e oggi questo pezzo di città, perché tale è, viene completamente acquisito dai fondi sovrano del Qatar. Allora, questa è una prima modalità, è una modalità molto forte ed è una modalità che oggi vede una competizione certamente importante e certamente discutibile tra le città, città che si mettono in scena per vendere i loro pezzi migliori, città che si mettono in scena per cercare di controllare questi processi, tra virgolette, di dismissione del parte del patrimonio con forma di compensazione, quindi naturalmente cercando di mantenere una regia, cercando di chiedere in cambio delle forme di sostituzione o di compensazione. Seconda grande modalità è quella invece che, se vogliamo, ha costruito le nostre città e quando dico ha costruito le nostre città intendo dire quel fenomeno di somma, di addizione, di un grande numero di piccoli interventi di modificazione che è stata la grande energia del territorio italiano. Iniziamo con la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, probabilmente questo fenomeno ha origine anche in una scelta da parte degli allora governi, soprattutto dei governi di centro-sinistra, di non investire in infrastrutture e in servizi, ma sostanzialmente di investire le famiglie di un capitale molecolare che è stato immediatamente subito investito nello spazio, nell'acquisto di una casa soprattutto, nella costruzione di una casa o della costruzione di uno spazio commerciale o della costruzione di un spazio per una piccola impresa. Questo fenomeno che in alcuni casi ha acquisito, ha assunto il carattere dell'abusivismo, in molti altri casi ha assunto un carattere del tutto legale, è stata la costruzione del nostro territorio. Migliaia, migliaia, migliaia di palazzine, di villette, di centri commerciali, di autolavaggi, di contenitori che hanno invaso non solo i territori del nostro Paese e che hanno raccontato una energia, in questo caso molecolare, diffusa che ha completamente trasfigurato porzioni immense del territorio che abitiamo. Quindi se volete quasi un fenomeno opposto al primo, un fenomeno che declina in un modo diverso un concetto che qui noi oggi discutiamo in qualche modo che è quello di democrazia, perché trattasi anche questo di un fenomeno che in qualche modo ha a che vedere con una democratizzazione delle possibilità di modificazione dello spazio. E poi c'è una terza chiave, e concludo, che potremmo dire assai più complessa, che invece muove i processi di autoorganizzazione, reti generative di momenti di trasformazione e costruzione della città. Nel 2000 io partecipai a una grande mostra sulla metropole, sulla trasformazione, sulle mutazioni urbane in Francia per l'anno 2000, e il gruppo di ricerca di cui facevo parte si occupò in specifico di raccontare come la città europea, che era ancora in quegli anni lontana ovviamente dalla crisi sostanziale degli ultimi sette, otto anni, ma anche lontana, perlomeno nelle regioni che più conosciamo, più vicine a noi, da quella grande, come dire, famelica capacità di attrazione e acquisizione per pezzi, che è il carattere prevalente della costruzione per grandi porzioni del territorio negli ultimi anni. In quegli anni l'elemento fondamentale, oltre a quello dell'energia molecolare, della moltitudine, era quello della crescere di processi di autoorganizzazione. Quello che noi dicemmo in una ricerca che si chiamava USE, Uncertain States of Europe, facendo un lavoro di campionatura di una quarantina di casi di trasformazione in Bale e in Europa, era rilevare come gli elementi di vera innovazione, e qui introduco un altro concetto che assieme a quello di democrazia è un elemento di bussola, perché costruire la città non significa necessariamente produrre una novità. Si può costruire replicando, si può costruire peggiorando, si può costruire riducendo le potenzialità, le possibilità del futuro. Ecco, in quegli anni quello che noi vedevamo era che nel fenomeno di l'invasione di tutti gli spazi pubblici di Belgrado, di commercio ambulante di nuova generazione, molto veloce, molto invasivo, ma anche molto ricco di varietà. Nei fenomeni vicino a Valencia di costruzione un sistema di piccole imprese che cominciava a fare rete, cominciava ad avere una dimensione sul territorio che caratterizzava anche gli spazi dell'abitare, cioè le forme di mix di abitare e lavoro. Nei fenomeni di totale ripensamento funzionale di alcuni grandi edifici del patrimonio pubblico, di alcuni grandi dinosauri del patrimonio pubblico sviluppati per esempio in alcuni quartieri etnici di Parigi, dove comunità asiattiche avevano cambiato completamente il sistema delle istruzioni funzionali, riorganizzando gli spazi interi interni. Per citare tre casi che avevamo studiato in quella ricerca, la novità in Europa veniva da processi di autoorganizzazione, con la cortezza di dirci, e ripeterei oggi, che autoorganizzazione non significa necessariamente un'idea un po' mitologica di partecipazione, partecipazione a alcune opzioni politiche, partecipazione a alcuni progetti, alcune idee di trasformazione. Autoorganizzazione può voler dire la costituzione di corpi interiore, medi, che sono sostanzialmente delle reti, che a volte non coinvolgono le istituzioni, a volte le coinvolgono, che a volte si creano e diventano istituzioni, che spesso hanno però un rapporto fortissimo con dei luoghi, con dei luoghi disponibili nello spazio e che cercano di lavorare nella direzione di socializzare, considerare questi spazi, usando un termine ormai desueto, beni comuni, spazi che sono in qualche modo disponibili a una molteplicità di usi e dunque imprevedibili, perché io credo che poi alla fine ciò che caratterizza gli spazi pubblici sia l'imprevedibilità, non può che essere l'imprevedibilità. Ecco allora, e concludo, a me pare che ci siano queste tre grandi forme di costruzione oggi del territorio. La prima è una forma che potremmo anche definire autoritaria se non fosse che dentro questa autorità non c'è più lo soggetto pubblico. Questo è un elemento fondamentale che non possiamo considerare. Io credo, lasciatemelo dire, che davvero oggi il tema della pianificazione, dell'autoritarismo, della pianificazione sia un tema, non dico rilevante, ma un tema da guardare con una certa ironia. Allora, cominciamo a ripetere che c'è oggi un tema fondamentale della costruzione di porzioni, di porzioni importanti, o in estensione o maggiormente di recupero o di qualificazione che viene gestita da alcuni grandi soggetti del capitale internazionale. Poi c'è una seconda chiave che secondo me è una specie di basso continuo che ha sentito la crisi, che si è ridotta fino a forse esaurirsi quasi del tutto negli ultimi 7-8 anni, ma che è stata la grande onda dell'energia di costruzione del territorio per 20-25 anni, che è una democrazia economica trasformata in possibilità di costruzione di un proprio spazio di vita, di lavoro, di commercializzazione, di presenza. E il terzo è invece un sistema più reticolare di processi di autocostruzione, costruzione e trasformazione degli spazi destinati a una funzione di socializzazione che ha attraversato la nostra storia. Siamo oggi qui in uno di questi spazi, perché quello che è successo, sta succedendo nella cavallerizza, è esattamente il costituirsi di una rete generativa, peraltro molto ricca, molto complessa, molto eterogenea, che sta cambiando un pezzo nel centro storico di Torino. Io finirei e poi spendo dopo, grazie. Grazie. Abbo Eri, con la sua introduzione ci ha anche reso comprensibile la complessità degli ingredienti che stanno dietro questo ragionamento di oggi. Sapevamo perfettamente che questa domanda apriva un ventaglio infinito di interpretazioni, quindi oggi abbiamo un piccolo spaccato di questa interpretazione di Costruisce la città. E credo che siano tre casi che hanno interpretato come filo trainante della loro riflessione l'infrastruttura sociale al centro del progetto di trasformazione urbana. E quindi a fronte di, appunto, quell'ironia che io credo che sia molto bassa la dose di ironia nella dimensione urbanistica contemporanea, perché già solo il termine semantico piano regolatore, già la dice lunga ed è comunque lo strumento principe con cui ci misuriamo, è lo strumento di partecipazione al piano regolatore e l'istituto delle osservazioni, che molto volte hanno un linguaggio bizantino. Il illustrissimo sindaco, il presente proprietario della particella X chiede, è l'istituto della risposta e la contradeduzione. Quindi, insomma, l'insieme di questa semantica già ci fa capire che poi quella però è la prassi quotidiana, è ancora la prassi quotidiana dell'urbanistica e della pianificazione territoriale. Quindi questi tre casi, invece, mettono in antitesi l'infrastruttura sociale rispetto all'infrastruttura fisica o alla rendita fondiare, che fino ad oggi è stata, diciamo, motore, fino a qualche anno fa, delle nostre trasformazioni, un modello su cui confrontarsi e discutere, che in effetti rischia in alcuni casi la deriva della partecipazione retorica, ma mi sembra che in queste tre esperienze, invece, questa deriva forse non la ritroviamo. Quindi io passerei la parola all'intervento, al primo intervento di racconto delle esperienze a Michael Laffond, che ci racconta l'esperienza di Berlino. Michael Laffond dirige l'ID22, che è un istituto per la sostenibilità creativa di Berlino, è studioso di origine tedesco-americana, ricerca, insegna e scrive sviluppo di superfici non edificati e immobili sfitti e sull'impiego innovativo di tecnologia ambientale e democratizzazione dei processi di pianificazione urbana. Quindi Michael si dovrebbe trovare benissimo dentro Biennale Democrazia, perché è il suo tema di ricerca fondamentale, credo. La parola a Michael. Mi dispiace che il mio italiano sia terribile. Spero che riuscirete a seguire il mio inglese, che sicuramente è più facile del mio tedesco. Grazie molto per avermi invitato, sono molto contento di essere in una città in una giornata di primavera. Ha un aspetto molto più bello di quanto non abbia Berlino in questo momento, perché ha piovuto, piove a Berlino, è freddo. Quindi vi assicuro che questo è veramente come un simbolo. Sto uscendo dall'inverno. Bello vedere delle montagne, bello vedere i cieli azzurri, dopo molti mesi di cieli grigi a Berlino. Da un certo punto di vista rappresento Berlino, forse troppo, rappresento la mia organizzazione ID22, che è l'Istituto per la Sostenibilità e Creatività. Noi lavoriamo a Berlino, lavoriamo internazionalmente. Come è già stato detto, io sono un architetto, ma sono anche un urbanista, e anche quello che io chiamerò lo sviluppo della comunità community development. A Berlino noi ci occupiamo della sostenibilità creativa ed in particolare ci occupiamo dello sviluppare la democrazia urbana. Com'è che possiamo definirla? Com'è che possiamo renderci conto che le nostre democrazie non sono dei prodotti finiti, ma che hanno continuamente bisogno di essere sviluppati e di seguire. Quindi la domanda è chi costruisce la città? Questa è la domanda che era stata posta oggi. Io penso che questa sia una domanda molto ben posta nell'organizzare questa discussione. La mia organizzazione, come ho detto, si occupa di questa questione a Berlino e dal punto di vista internazionale noi facciamo ricerca, formiamo delle reti, abbiamo degli argomenti di cui ci occupiamo, che in inglese chiameremo il co-housing, il co-working, cioè dei giardini in comune, delle case in comune e tutti i progetti che sono auto-organizzati, cosa per quella quale Berlino è diventata famosa negli ultimi anni. Noi siamo anche interessati alla ricerca dello sviluppo di strategie collaborative, ovvero non è che le persone fai da te, ma sono persone che cercano di ritrovarsi per gestire degli spazi nella città in una maniera sociale, con un'angolazione sociale e collaborativa. E quindi chi è che costruisce le città? Torniamo alla domanda che è stata posta. Innanzitutto vorrei sviluppare questa domanda e il mio interesse non riguarda tanto chi costruisce la città, è ancora più importante chiedersi non tanto la costruzione della città ma chi gestisce la città, è la vera domanda. Perché chi costruisce o pianifica la città è chi la gestisce? A volte sono delle persone, a volte sono dei cittadini, ma penso che sia vero in tutte le nostre città. Gli esperti, cioè le persone che sono al potere, l'establishment della pianificazione urbana, gli esperti, gli specialisti, sono quelli che sviluppano la città, in particolare per i progetti più grandi. I progetti più grandi non si sviluppano attraverso un processo democratico ma con un processo dall'alto verso il basso, non tanto autoritario ma diciamo dall'alto verso il basso e penso che la struttura richieda una certa democratizzazione. La mia organizzazione ha come parola d'ordine la sostenibilità creativa e noi vogliamo parlare del sviluppo sostenibile come sfida culturale, quindi non tanto una questione tecnica ma una questione culturale. Com'è che lo gestiamo noi nella nostra città? Com'è che comunichiamo? Com'è che gestiamo le persone? Com'è che le coinvolgiamo? Com'è che parliamo la loro lingua? Com'è che le ispiriamo? Noi ne parliamo all'interno di due dimensioni. una è il diritto alla città. Chi ha il diritto di aiutare a gestire e costruire la città? Una questione politica che si occupa col processo decisionale del potere e a noi piace completare questo con una dimensione culturale dove parliamo dal diritto all'espressione, ovvero il diritto delle persone se hanno il tempo e l'interesse di aiutare a dar forma e di creare le loro città nel senso come esseri umani. Noi siamo interessati a far sì che ci partecipare nel processo decisionale ma anche a modellare il nostro ambiente in modo tale da poterci identificare con l'ambiente stesso. Noi siamo molto interessati a questo, gli architetti lo sanno ma noi vogliamo estendere questo a tutta la cittadinanza perché la posizione che abbiamo è che tutte le persone di un dato quartiere, di una data città sono in una certa qual misura creativi sempre. Noi poi ci occupiamo di culture di sostenibilità o culture di sviluppo urbano sostenibile, ci occupiamo della cultura del co-housing e in particolare vediamo progetti abitativi di co-housing auto-organizzati e pensiamo che questi possano essere un fondamento molto importante per la sostenibilità nella città. Ci piace dire che queste cose sono auto-organizzate, che sono orientate alla comunità e che sono interessate alla sostenibilità. Per noi questo va al di là della partecipazione. Se per esempio diciamo che la partecipazione è molto spesso, se non sempre, un processo che inizia perché un'agenzia, un'organizzazione, un governo lo promuove, dove le persone vengono e presentano i loro piani, in realtà per andare oltre bisogna chiedere alla gente cosa vuole e cosa non vuole, incoraggiare le persone a cercare di sviluppare i propri sogni e incominciare con le case perché tutti noi viviamo da qualche parte e questo è un bel posto, un bel luogo in modo tale che le persone possano imparare a esprimersi e possono imparare a gestire e modellare l'ambiente. Vediamo questi progetti, noi utilizziamo co-housing come definizione molto ampia in un senso ideale, naturalmente come l'ideale della democrazia in cui le persone possono acquistare le conoscenze necessarie per la comunicazione, possono anche imparare il compromesso e la decisione di gruppo. Guardando un attimo Berlino, io personalmente ci vivo da 25 anni, quindi metà della mia vita a questo punto. Quello che mi piacerebbe descrivere, è una città laboratorio, penso che sia uno dei laboratori urbani più importanti del pianeta in questo momento, più interessanti, c'è molta innovazione, c'è molta sperimentazione, sono molti progetti auto-organizzati, molti progetti di co-housing. Berlino, dal lato positivo, è una città del design, dell'innovazione, una città abbastanza tollerante. Negli ultimi anni è stata una città anche sostenibile dal punto di vista economico, ma negli ultimi decenni è cambiata, negli ultimi secoli è cambiato, c'è stata delle ere molto scure, anche la brutalità, la guerra, la divisione della città e ancora una volta Berlino sta cambiando. Berlino sta emergendo dal suo sonno, sta emergendo da una situazione di ibernazione scoperta da turisti, scoperta dal capitale internazionale. Berlino è tornato sulla mappa, sta crescendo, c'è un processo di gentrificazione e sta perdendo alcune di queste cose che a noi piacciono, per esempio il fatto che ci siano delle case di prezzi ragionevoli, spazi perché le persone possono organizzare i loro progetti. Vorrei darvi alcuni esempi per darvi alcune idee sulla situazione della democrazia urbana a Berlino, per farvi vedere quello che a mio parere c'è una popolazione critica e molto partecipante che segue i progetti che sono stati proposti, in alcuni casi invece resiste, protesta conto innanzitutto per esempio sul fiume Spri, il Media Spray Project è un'iniziativa dall'alto, dalla città, per mettere sul mercato gli spazi che rimanevano ancora liberi sul mercato, hanno portato le corporazioni internazionali a Mercedes, la Coca Cola e MTV perché portassero le sedi internazionali. C'è stata molta resistenza, le persone hanno raccolto firme, la maggior parte delle persone hanno votato contro il progetto Media Spray e hanno votato contro il fatto che la città diventasse più esclusiva e hanno anche a favore dell'utilizzo del lungo fiume, hanno votato perché questo venga mantenuto come zona inclusiva e a costi ragionevoli nella città. Non volevano che ci fossero delle comunità, dette le comunità gated, cioè che vivono all'interno di una zona chiusa da mura e da cancelli. In questo caso qui sono riusciti ad avere un impatto su questo processo. Il secondo esempio è l'aeroporto di Temple Half, un aeroporto molto importante per Berlino occidentale, è stato chiuso nell'ultima decennia, nel 2008, era stato chiuso nel 2011, è stato riaperto, c'era il piano regolatore per riaprirlo e per aprire anche lo spazio commerciale. Non era mica brutto il processo, il piano regolatore, ma la gente di Berlino non lo amava perché era molto scettica, ma questa volta a livello della cittadina di nuovo firme, voto e hanno bloccato questo progetto e quindi questo è stato bloccato per lo meno per questo per un po' di anni. Quindi questo per dimostrare un altro successo, per vedere come i cittadini possono organizzarsi e possono opporsi a dei progetti che vengono dall'alto e che le persone non considerano dei progetti nel loro interesse. Adesso vorrei parlare in senso più positivo, cioè dell'auto organizzazione, in cui le persone si organizzano per creare qualcosa. Io sono stato parte di una cooperativa per gli ultimi 4-5 anni, ci viviamo e lavoriamo da un anno, è un uso misto da un punto di vista sia abitativo che di lavoro, risponde in parte anche agli sforzi di mantenere il lungo fiume aperto e quindi il nostro progetto e altri in fondo cercano di trovare una risposta a questo, mettendo interessi privati delle persone che vivono lì, con l'interesse pubblico che significa accesso alla terra, accesso al fiume e zone di pubblico interesse. Questo progetto abitativo è un progetto auto-organizzato, un'iniziativa auto-organizzata che ha scelto la forma cooperativa perché essendo una struttura democratica, una persona a un voto, questo rappresenta una struttura molto stabile di proprietà e che può mantenere anche delle abitazioni a prezzi molto ragionevoli, che si occupano in particolare del valore d'uso dello spazio e non hanno come interesse precipuo il profitto né cercano di creare delle residenze molto esclusive, cercando di mettere insieme interessi pubblici e privati. Io sono molto interessato al processo perché il processo ha a che fare con la democrazia. Com'è che si coinvolgono le persone? Bene, questo significa che bisogna focalizzare sul processo, che ci vuole del tempo, ci vuole delle discussioni, permettere anche i compromessi, non semplicemente incoraggiando gli architetti che facciano tutte le domande, lavorare con gli architetti e rispettando la loro specialità e le loro conoscenze, ma portando anche quelli che ci vivono nel corso dei mesi e degli anni in modo tale che si possano ottenere dei risultati con cui tutti sono contenti. Degli esempi di quello che voglio dire quando dico si rispetta il processo. Abbiamo dato alla popolazione la possibilità non soltanto di progettare ma anche di costruire e quindi per esempio potevano ordinare una base d'appartamento, cioè ricevevano gli standard, quindi hanno potuto poi fabbricare gli appartamenti con le loro mani. Molti spazi vengono completati dalle persone della cooperativa, anche gli spazi esterni. Abbiamo anche delle cose, guardando l'architettura sociale, che io chiamerei cluster apartments o abitazioni condividi nell'intenzione della democrazia diretta o partecipazione diretta, dando alle persone la possibilità di partecipare al processo decisionale di come gli spazi funzionano e come vengono gestiti. Io sono parte di questo su due piano, 21 persone e noi abbiamo avuto la possibilità nell'arco di pochi anni di fare questo e poi di aiutare nel processo di costruzione. Quindi noi vorremmo avere il meglio di tutti e due le soluzioni, cioè spazi privati ma anche spazi comuni di poter cucinare e mangiare insieme su base quotidiana. Poche altre informazioni sulla cooperativa Spreyfeld prima di concludere. Tra il 2008 e il 2014 è stata la programmazione, ci sono circa 130 residenze, 100 persone ci lavorano, non c'è uso privato a livello di piano terra, c'è un centro per l'infanzia, poi ci sono artigiani, siccome siamo sul fiume e poi c'è anche una spiaggetta pubblica, fondamentalmente abbiamo varie attività che avvengono a livello del piano terra. Gli aspetti sociali sono molto importanti, per esempio la democrazia, il processo, ma ci sono alcune altre cose che sono importanti. La sostenibilità, gli edifici sono passivi, vuol dire che sono molto efficienti in termini energetici, abbiamo i nostri sistemi energetici di riscaldamento che sta diventando cosa più comune a Berlino, non ci sono macchine, quindi non ci possono essere parcheggi, non ci sono parcheggi, ma parcheggi per 200 biciclette e anche la ristrutturazione di una zona, un tempo industriale, recuperando questo terreno. E per riassumere, dov'è che stiamo andando? Da che parte va Berlino? In che direzione va? Beh, alcune persone a Berlino dicono che la festa è finita. Non so se sia vero, io penso che la grossa festa è finita, le cose diventano più serie, Berlino sta vivendo la normalizzazione, è stata scoperta dal capitale internazionale, sta crescendo, ma comunque una città innovativa e grazie ai prossimi ultimi decenni di sperimentazione c'è anche un'inerzia che la porta avanti, è una buona base che ci permette di andare avanti e permette alle cooperative, per esempio, di esistere. Comunque io ed altri a Berlino ci stiamo rendendo conto che mano a mano che le cose diventano più serie, che il gioco si fa duro, dovremmo vedere come questo può continuare. non è facile come pareve, dobbiamo fare delle reti, dobbiamo lavorare con la città, dobbiamo andare a di là dei nostri confini e parlare con persone, per esempio, anche a Torino e vedere quale strategie innovative ci possono essere. Ma questa è la situazione com'è, stiamo emergendo, è la fine della festa, ci stiamo svegliando e ci rendiamo conto che da certo punto di vista si rendiamo conto di vivere in un mondo crudele e competitivo. questo è uno dei motivi per cui io sono qua oggi, perché vorrei condividere le esperienze di Berlino e vedere quello che state facendo voi e riportare a casa delle idee e dell'ispirazione. Grazie molto per aver ascoltato e per la vostra attenzione oggi e ancora una volta. Sono contento di essere qua e grazie moltissimo per il bel tempo. Adesso ascolterò con piacere il resto delle conferenze e le varie azioni che saranno sviluppate nei prossimi giorni. non semplicemente parlare, ma andare anche per strada e dimostrare il vostro interesse. Grazie moltissimo. Grazie a Michael LaFond. Intanto che la giornata di sole primaverile ha lieti questo mondo crudele e competitivo che nella sua parte finale ci ha evocato. Tra l'altro mi ha colpito il tema della sostenibilità creativa diffusa dal basso a Berlino, perché mi ricordo in questo discorso, visioni dall'alto dal basso, invece qualche anno fa mi aveva colpito una ricerca dell'ANCE, che è la Società Nazionale dei Costruttori e degli Italiani, una ricerca molto glamour sulla città dei creativi, dove si cercava di dimostrare che l'indicatore della creatività, quindi la capacità di attrarre creativi nelle città e soprattutto nelle megalopoli, era uno degli elementi fondamentali della competizione globale. E quindi una visione, devo dire, volto dall'alto, anzi si chiedeva concentrazioni di città per diventare città creative, e quindi l'ottimismo di questa sostenibilità diffusa nei quartieri di Berlino ci consola e speriamo che Torino incontra Berlino, più che crudeltà e competizione, ci porti sostenibilità e creatività. Introduco Federica Verona, progetto Zoya, un altro caso di democrazia urbana, credo che alcune parole che si sono ripercorse nell'intervento di Michael Laffont si ritrovano anche nella vostra esperienza, quindi a te la parola. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, io sono consigliere di gestione di un consorzio di cooperative di abitanti, che si chiama CCL, che raduna circa 50 cooperative nate negli anni 50 di fatto per dare casa ai lavoratori, cosa che cerca di fare tutt'oggi, nonostante i tempi di crisi. Le cooperative raggruppate all'interno del consorzio sono cooperative proprietà divisa, ci sono due gruppi fondamentali di cooperative. La proprietà divisa significa che la cooperativa viene costituita dai soci, che poi abiteranno la loro casa. i soci seguono tutto un iter che li porta dal grado zero fino al rogito, dopo il rogito la cooperativa si scioglie e loro escono. La proprietà indivisa invece ha un'altra natura, nel senso che le cooperative acquistano l'immobile attraverso il prestito sociale dei soci, e poi lo riaffittano i soci stessi con degli affitti di lungo periodo, a volte anche decennali. Nel nostro caso raduniamo circa 50 cooperative. Ogni cooperativa attraverso il consorzio vive un iter che va dall'acquisto dell'area alla scelta dei progettisti, alla realizzazione del progetto, agli iter urbanistici che in Italia sono molto lunghi e molto complessi, alla scelta dell'impresa fino alla realizzazione del cantiere. Il socio in tutto questo è un protagonista fondamentale dell'operazione, nel senso che proprio si parla di democrazia. il socio partecipa dall'inizio alla realizzazione della sua casa, con i pro e con i contro, perché poi non è sempre facile mettere d'accordo tutti. Una di queste cooperative, che si chiama Cooperativa Solidar, ha partecipato nel 2008 ad un bando del Comune di Milano, il bando delle otto aree. Lo ha fatto insieme ad una cooperativa che si chiama Cooperativa Edificatrice Ferruccio De Gradi, aderente a Legacop. E di fatto si è trovata a gareggiare per quest'area di 5.400 m2 di SLP, dove l'allora Assessore Masseroli decise di tramutare delle aree a standard edilizio, quindi che sarebbero state destinate a dei servizi, parcheggi e cose simili, ad un progetto di social housing. Social housing che cosa significa? Significa mettere insieme alloggi in proprietà a basso costo, cioè al di sotto dei costi di mercato, alloggi in affitto a canone convenzionato e alloggi in affitto a canone sociale, con abitanti che sono stati direttamente selezionati dal Comune. e stimolare agli operatori che avrebbero partecipato a questo bando un progetto sociale, un progetto di coesione. Poi, insomma, usare questi termini, progetto sociale, sembra cose molto pesanti, ma sono termini un po' così ridondanti. Però il motivo era che per la prima volta di fatto a Milano si apriva un bando a degli operatori, quindi imprese cooperative, differentemente al bando abitare a Milano, che invece per la realizzazione di alloggi popolari veniva aperto ai progettisti. In questo caso il Comune aveva bisogno di un gestore, oltre che di un progettista, con magari qualche rischio, nel senso che affidare spesso agli operatori dei progetti il rischio poteva essere che i progetti non fossero qualitativamente belli. E su questo il bando era fatto, devo dire, molto bene, nel senso che richiedeva una forte componente progettuale di qualità, chiedendo proprio di inserire delle progettualità un po' più giovani rispetto al mondo un po' più antico delle cooperative e delle eventuali imprese che avrebbero partecipato. Abbiamo selezionato un giovane progettista che si chiama Vincenzo Gallio, che è stato affiancato invece delle figure un po' più old, nel senso un po' più esperte, forse, dal punto di vista sia dell'esecuzione del cantiere, e dal punto di vista dei rapporti con il comune. In realtà dico questo perché la figura di Luca Mangoni, che è un progettista, a molti può essere forse più noto perché è anche il figurante di Elio e le storie tese, però è un bravo progettista ed ha seguito con grande attenzione tutto l'iter progettuale, che è stato molto lungo perché essendo uno spazio poi di fatto che vedeva la presenza di una piazza pubblica e di un'area privata servito a uso pubblico, ha dovuto di fatto assecondare tutta una serie di burocrazie, di scelte, di imposizioni anche da parte degli uffici del comune, molto lunga, molto intensa. Questo per dire che la squadra che si è costituita era una squadra di diverse competenze. Il progetto è di fatto in classe A, geotermico, fotovoltaico, con una forte attenzione al risparmio energetico e credo ci abbiamo provato, abbiamo cercato di restituire dal punto di vista progettuale anche dello spazio pubblico, dello spazio nuovo che per un quartiere come quello di Quarto Cagnino andava a sostituire un vecchio parcheggio di fatto, un posto dove si andava ad insegnare ai ragazzini a prendere la patente o dove si teneva il mercato che tuttora si tiene sulla piazza. Insomma abbiamo cercato di restituire dal punto di vista urbano una dimensione che chiaramente a oggi che il progetto è stato inaugurato, oggi che il progetto è vissuto, è di fatto una sfida. Novanta alloggi, dicevo, 90 alloggi di cui una buona percentuale in affitto a canone convenzionate e sociale, chi ha acquistato casa in proprietà ha pagato la sua casa circa 2000 euro al metro quadro, comprensiva di cantina più box, ha seguito con noi appunto tutto questo iter di assemblee, di incontri, ha condiviso con noi gioie e dolori del cantiere, delle problematiche che in un cantiere chiaramente possono emergere. I soci nel nostro caso di solito fanno parte di un consiglio di amministrazione della cooperativa, quindi hanno diritto di voto e quindi per questo dico per loro è anche un'esperienza molto forte, nel senso che in questo caso tra l'altro il bando chiedeva che vi fossero dei requisiti ben precisi per poter abitare Zoya, era la prima casa e quindi questo si è portato dietro moltissime, come dire, moltissime pressioni anche psicologiche perché voleva dire appunto finalmente investire i soldi di una vita nella loro prima casa o nella casa per il figlio. la compagine degli abitanti appunto della proprietà è varia, ci sono molti giovani, molte coppie, qualche anziano, si conoscono tutti, hanno una sala comune che gestiscono con, la stanno provando a gestire perché poi un po' discutono tra di loro anche animatamente a volte, però appunto è la democrazia che porta con sé appunto sia le discussioni in bene che la difficoltà poi di decidere come gestire questi spazi comuni e devo dire che un po' una comunità si è costruita, insieme a loro appunto c'è l'affitto, affitto convenzionale, affitto a canone sociale, lista ERP del comune, quindi persone che sono state prese a caso da queste liste che sono lunghissime, sono di fatto un problema nel senso che c'è molta gente che ha bisogno di casa, in questo caso devo dire che è stato molto strano perché noi avevamo finito il cantiere, abbiamo dovuto attendere quasi un anno prima di ricevere i nominativi perché pareva che coloro che erano in lista facessero fatica ad accettare un contratto 4 più 4 perché la novità un po' di questo progetto è che come dicevo prima non è il comune a gestirlo, non è aler a gestirlo ma sono gli operatori e quindi sono gli operatori che hanno a che fare con gli affittuari e quindi il terrore di avere l'affitto 4 più 4 è chiaramente una novità importante, importante in una città come Milano che vede dei problemi abbastanza ingenti nelle case popolari che appunto non hanno ricambio, che spesso cadono a pezzi, quindi paradossalmente mentre ci aspettavamo di avere riempiti prima gli alloggi a canone sociale che non sono molti, sono 16, abbiamo dovuto attendere l'ultimo contratto è stato firmato neanche un mese fa. appunto il comune oltre a chiedere agli operatori un progetto di qualità, un progetto di sostenibilità ambientale, tutta una serie di attenzioni che vi ho citato prima, li ha obbligati a costruire un piano di accompagnamento sociale che detta così fa veramente molto assistenza, molto assistenzialismo ma in realtà è stato uno stimolo per provare a capire che cosa potevamo, come potevamo costruire a Zoya, a partire da zero, una serie di relazioni. È una sfida non facile perché non è come dirlo, nel senso che imporle dall'alto sarebbe stato rischioso e quindi nel momento in cui è iniziato il cantiere, il cantiere è ritardato di un anno perché il mercato comunale non voleva più spostarsi dall'area. Vabbè, insomma, sono i problemi del caso. Appena abbiamo iniziato il cantiere abbiamo iniziato anche un lavoro di, chiamiamola mappatura, di tutte quelle che sono le associazioni, le realtà. Zoya sta a Quarto Cagnino. Quarto Cagnino è una periferia a mio avviso interessantissima perché è ancora un quartiere dove si parla milanese, c'è la bocciofila, non c'è molta immigrazione, i giovani scappano perché ovviamente è popolato dagli anziani, ma nello stesso tempo lì vicino c'è il Parco delle Cave, c'è il Parco di Trenno, c'è lo stadio di San Siro, ci sono attività sportive continue. Quindi è un luogo molto interessante perché da un lato è connotato da questa forte edilizia popolare degli anni che furono e dall'altra parte però mantiene quella sua tradizione popolare e si inventa forme di socialità che partono dal basso in maniera assolutamente attiva e costante, quasi in maniera continuamente propositiva. quindi abbiamo iniziato ad intervistare chiunque, facendoci raccontare la loro storia, che cosa fanno, quali attività svolgono e abbiamo contemporaneamente aperto un blog che si chiama Zoya Blog che forse qualcuno di voi avrà visto ed è un blog che ha la duplice intenzione di da un lato raccontare agli abitanti come sarebbe stata la loro casa, loro comprano casa su carta e si devono fidare, nel senso che ci sono le assemblee però non entrano in cantiere. Entrano in cantiere gli abitanti in tre fasi nel momento in cui scelgono le varianti murarie, le varianti elettriche e scelgono i pavimenti e le porte. Hanno un assistente ai soci che li segue nella fase progettuale che gli fa ad hoc la loro casa ma di fatto non entrano normalmente in cantiere. Quindi nel blog venivano raccontate grazie a Luca Mangoni, insomma è stato sfruttato, ha sfruttato la sua celebrità attraverso questo video giornale che lui faceva ogni mese in cui raccontava l'aggiornamento lavori. Questo devo dire che è stato molto utile ai soci, perché così prendevano di fatto dimestichezza con la loro futura casa in maniera veloce. Dall'altra parte il blog invece aveva l'intenzione di raccontare il quartiere, di raccontare tutto quello che attorno a Zoya succede. Una volta chiusa un po' la ricerca, capite le relazioni che potevamo instaurare con i nostri vicini di casa, ci siamo interrogati su che cosa fare. Il comune ci obbligava a mettere a disposizione il 5% di tutta la superficie, quindi pari di 300 metri quadri, per attività dedicate ad abitanti e quartiere. Uno dei temi forti che emergeva è che le botteghe non ci sono più, che non ci sono più realtà creative, che mancava di fatto qualcosa che stimolasse un po' il quartiere. Allora abbiamo deciso di far partire questo concorso che si chiama Zoya Officine Creative, che si è chiuso ad aprile dell'anno scorso, e lo abbiamo aperto a dei giovani professionisti del mondo dell'arte, dell'artigianato, dell'architettura, di ogni professione di fatto che avesse a che fare con la creatività. Abbiamo detto loro che gli avremmo affittato degli spazi di circa 50 metri quadri a 150 euro al mese, quindi per Milano una cifra devo dire molto bassa, e in cambio gli abbiamo chiesto però di restituirci dei progetti per gli abitanti e il quartiere, quindi provare a utilizzare questa risorsa che di fatto io ho visto girando tra le associazioni, tra la popolazione limitrofa, chiedendo loro di utilizzarla, di sfruttarla, di farsi conoscere anche in questo modo per entrare nella vita di quartiere. Hanno vinto un liutaio, un liutaio che ha circa 60 anni, era in aspettativa, ha sempre fatto il liutaio come secondo mestiere, ad un certo punto è stato licenziato, e quindi ha deciso di provare, di aprirsi la sua attività. Hanno vinto un collettivo di donne che lavorano nel mondo del teatro, quindi sono truccatrici, scenografe, sarte e quant'altro. Ha aperto lì una galleria d'arte, questa ragazza che organizza mostre in continuazione, e uno studio di architettura. Ognuno di loro si è inventato questa dimensione che un po' si intreccia, nel senso che ovviamente collaborano tra di loro, ma promuovono continuamente attività. Faccio un esempio, l'altro giorno un'associazione di quartiere, siccome sono arrivate delle donne arabe, ha deciso di raccontare la loro storia attraverso un reading, e quindi si sono tutti riuniti in questa serata organizzata nello spazio delle scenografie, in cui il liutaio ha suonato dei pezzi della loro tradizione. Insomma, si costruiscono piccole micro realtà, che di fatto in un quartiere dove c'è molto, ma non è messo in una regia, chi abita lì, se scende di casa, trova una risposta che va dall'aiutatemi ad appendere un quadro, al sistematemi la sedia d'ondolo che è rotta, oppure all'aiutario l'altro giorno sono andati a chiedere di accordare questa chitarra per fare i maccheroni alla chitarra, questa signora si è affacciata timidamente. E però, come dire, si sta generando pian piano, non nego, non è facile, perché comunque è un lavoro che si moltiplica nel tempo e con tanta pazienza e anche con passione, perché poi sono tutte realtà che non hanno ambizioni, hanno ambizioni normali, semplici, a partire dal realizzare la propria realtà professionale, perché tutti loro hanno un lavoro, e questo è, devo dire, importante e fondamentale. Quindi, per chiudere, perché sarò stata lunghissima, io credo che Zoya sia un progetto interessante che è avvenuto perché il pubblico ha, come dire, finanziato in qualche modo il privato, perché tra l'altro il progetto è stato realizzato grazie ad un finanziamento regionale per gli alloggi in affitto, c'è stato un forte abbattimento del costo dell'area che ha costato poco e che ha permesso che chi acquistasse casa Zoya la potesse acquistare ad un costo di mercato più basso. Quindi una sorta di politica che ha messo insieme pubblico e privato con intelligenza. Penso però che Zoya non sia l'obiettivo finale. Penso che da un progetto come questo si debba partire per ragionare un po' al futuro dell'abitare. Penso che sia un progetto che parte adesso e che avrà la sua forza vera tra dieci anni, quando davvero la comunità funzionerà e, chiaro, non è sempre facile organizzare le cose, perché poi per fare una festa nella piazza adesso stiamo cercando di promuovere questi mercati contadini nel sabato mattina. È tutto molto difficile perché c'è un utilizzo del suolo pubblico che ha un costo. Fare un concerto all'aperto significa pagare la SIAE. Questo per dire che ci sono tutta una serie di difficoltà che forse fanno parte di un sistema iper burocraticizzato che non aiuta alla naturalità dei processi. Però, insomma, detto questo noi ci proviamo e continueremo a provare a farlo. Grazie. Grazie Federica. Se diciamo che la burocrazia può essere effettivamente uno strumento autoritario e difficile da superare, quindi siamo solidali. L'esperienza di Milano si intreccia con quella di Torino. A Torino non c'è la dimensione della costruzione degli interventi di Lizzi, però, della struttura sociale e della coabitazione solitale. Fanno parte del programma housing della Compagnia di San Paolo di cui Isabella Brossa ci racconta l'esperienza. Sintetiche come relatore. Siamo contenti che siate numerosi visto che il sociale a cui si stanno riferendo da ormai un'oretta non è stato in realtà veramente menzionato. Esiste un'emergenza abitativa in Italia che è dovuta anche al fatto che ci sia stata, a partire dagli anni 80, una progressiva apertura ai capitali privati. E, come diceva l'architetto Boeri, giustamente la gestione del territorio è anche una gestione di tipo politico che si struttura sulla divisione delle competenze, delle prerogative sociali tra lo Stato e il mercato. E allora ci chiediamo se non sia un po' eccessivo, comunque, dare tutta questa enfasi di positività al social housing che in realtà non è altro che una parola anglosassone per celare un significato che è edilizia privata sociale il cui strumento finanziario principale tra l'altro è la Cassa Depositi e Prestiti e quindi ci sembra anche rilevante il fatto che la Compagnia di San Paolo sia qui a presentare il suo progetto di housing sociale visto che è una delle fondazioni tra le principali azioniste. Vorremmo sottolineare che esiste un decreto, il numero 47 del 2014, Piano Casa 2014, il decreto Lupi, Ministro recentemente dimesso, che stabilisce all'articolo 3 la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. E allora ci chiediamo perché a fronte di 40.000 alloggi che nel 2013 non sono stati assegnati a 700.000 nuclei familiari che nel 2013 avevano il diritto ad accedere alle case popolari e non si sono viste assegnare alcuna casa per carenza strutturale delle stesse o per inadempienza del pubblico. Allora ci chiediamo perché tutta questa esaltazione del social housing che comunque viene gestito dai capitali privati che ricevono un profitto, ricevono un profitto dal disagio sociale che numerosissimi nuclei familiari in Italia stanno provando. E l'articolo 5 del decreto Lupi sta gestendo la questione abitativa, l'emergenza abitativa, come un problema di ordine sociale, criminalizzando la povertà. E quindi si parla di legalità mentre vengono progressivamente creati blitz di sgomberi. Abbiamo assistito a un blitz di sgomberi a Milano estremamente violento nell'autunno del 2014 e recentemente a Firenze. Allora scusatemi, vi abbiamo dato la parola, allora cortesemente ve la siete presa, ve l'abbiamo concesso. Però ci piacerebbe in realtà anche una vostra risposta rispetto a questo, visto che tra l'altro... Cercheremo di darla, adesso vi ringrazio per aver... La giunta comunale precedente aveva promesso 10.000 alloggi popolari entro il 2012 e questo non è stato... Però vi chiedo davvero cortesemente di rispettare anche la cornice in cui stiamo... Stiamo finendo, c'è anche la testimonianza di una donna. Buongiorno a tutti, io sono una persona che ha lavorato vent'anni in una ditta, la mia ditta ha chiuso, lo Stato, il Comune non mi ha mai dato una mano. Per loro io dovrei essere sotto i ponti. Invece di costruire case, perché non aiutano le persone che veramente devono? Io per avere un tetto ho dovuto fare un'occupazione. Vedete se per voi è giusto. Con due figli, una minorenne... Questa è la realtà. Non è costruire case, darle a chi ha già i soldi. Iniziamo ad aiutare anche le persone che non hanno più una casa, che non hanno più un lavoro e che non hanno più niente, grazie allo Stato e al Governo e a chi ha i soldi. Grazie, ovviamente rispettiamo queste posizioni e sappiamo perfettamente che dietro il problema dell'emergenza abitativa ci sono dei drammi, quindi ne siamo tutti consapevoli. Grazie per aver sollecitato anche questo momento di riflessione. Non avete messo a loro agio, devo dire, i relatori, ma credo che adesso forse una qualche riflessione possiamo... Speriamo che la risposta a chi costruisce la città qualcuno se la possa dare anche autonomamente, a prescindere da quello che gli viene detto all'interno di questa conferenza. Grazie mille. Per fortuna il libero arbitrio e la dimensione culturale libera rimane soprattutto in piena della democrazia, per cui credo che tutti quanti abbiano gli strumenti per fare delle riflessioni su questo aspetto. Allora, se c'è davvero un intervento molto rapido, se è coerente con quello che abbiamo visto, volentieri. Prego. Però chiederei davvero quello. Grazie mille delle presentazioni, soprattutto grazie alla presentazione del signor Lafon, che ho apprezzato moltissimo. Ho apprezzato il fatto che il signor Lafon, mi corregga se sbaglio, i cittadini di Berlino hanno bloccato dal basso una decisione presa dall'alto concernente l'aeroporto di Tempelhof. Ora, questo è molto interessante, lo trovo molto interessante. Mi piacerebbe domandare al signor Lafon... Quali sono... Io la capisco, però non è il momento delle domande. Finiamo anche per cortesia. Posso fare un intervento? No, non può fare l'intervento, però cortesemente potete togliere il microfono. Cosa devo fare? Grazie di avermi dato il microfono, però se me l'ho lasciato usare. Ho capito, però c'è anche una cortesia istituzionale. Allora, mi presento un attimo. Sono consigliere comunale nella cittadina di Lelocli in Svizzera, ho delle domande da fare e vorrei raccontare l'esperienza che ho fatto. Se ci sarà spazio lo farà alla fine dell'incontro, la ringrazio, davvero. Ah, beh, se non è finito l'incontro. No, non è finito l'incontro. Scusa. Prego, meno male che se n'è accorto. Grazie. Grazie a lei. Allora, ridiamo dopo questo momento rilassante la parola a Isabella Brossa. Io capisco che il tema di oggi abbiamo innescato evidentemente anche delle reazioni che sono anche legittime, però a Isabella il compito di riprendere il filo del discorso. È da un po' di tempo che mi capita sempre di dovermi smazzare gli aspetti più critici, ma va bene così, ci proviamo. È chiaro dall'intervento che abbiamo ascoltato anche con molto pathos dei ragazzi e della testimonianza della signora che il tema casa è nell'agenda pubblica, nella testa di ognuno, nelle cronache quotidiane, un'assoluta priorità. Io non mi sento di dover fornire una risposta in quanto semplicemente dal mio punto di vista partecipo e faccio parte della squadra e dello staff del programma housing della Compagnia di San Paolo, che è un segmento che la Compagnia di San Paolo è un programma che ha dedicato volutamente dal 2006 per affrontare il tema casa proprio perché è così scottante, così importante. Non posso giustificare e non ritengo di doverlo fare le scelte politiche, delle politiche abitative di questa città, non rappresento il Comune, quindi mi evito diciamo di fare delle gaffe eventuali, però quello che noi abbiamo potuto verificare nell'operatività incessante del nostro intervento è che si costruisce la città e si costruisce democrazia offrendo dei percorsi di accesso alle risorse, dei percorsi di accesso alla casa. Il mio intervento sarà strabreve a questo punto ma è tutto attorno a questa dimensione. Non si costruisce la città da soli, la Compagnia di San Paolo con il programma housing individuata alla priorità della casa è una serie di tematiche principali, costruisce un maggiore accesso alla casa o dei percorsi accessibili e praticabili attraverso la costruzione di forti collaborazioni e forti partnership tra pubblico e privato. Non nessuno può costruire opportunità abitative da solo, questo è ovviamente evidente in ragione delle risorse che sono comunque limitate rispetto al problema che sta dilagando e diventando sempre più importante. Quello che ci piaceva restituirvi o comunque segnalarvi è che non avevamo intenzione di portare in questa discussione degli esempi di interventi strutturali sulla casa. Ci interessava potervi dare un contributo rispetto alla nostra esperienza attorno all'incrementare la carriera abitativa dei giovani e la possibilità di sviluppare autonomia abitativa nei giovani. In particolare noi abbiamo potuto sviluppare nel programma ormai nato nel 2006 delle esperienze in proprio, cioè elaborandole, incubando alcune idee e poi passando al piano realizzativo attraverso collaborazioni con enti del terzo settore, molto molto variegati, quindi vi volevo fare accenno alle cose più disparate. Accedere alla casa è una questione abbastanza complessa. Noi ci siamo accorti nel 2008 che il panorama presente, almeno a livello locale, a livello torinese, poteva essere arricchito attraverso un progetto, un servizio di intermediazione immobiliare sociale che quindi non avesse il carattere del profitto, ma avesse la possibilità di accompagnare e far incrociare maggiormente le esigenze di chi cercava casa, giovani che cercavano casa, studenti o lavoratori, quindi con non una grande capacità di spesa, e proprietari che dovevano essere in qualche modo rassicurati o facilitati nel avvicinare questo tipo di destinatari con alcune garanzie. Questo è il progetto stesso piano, a questo punto non lo svilupperei perché non c'è modo, ma creare una filiera di opportunità di accesso alla casa significa anche intervenire sui servizi che possono favorire l'incontro tra domanda e offerta. Esistono altre agenzie a carattere sociale, questa è quella che noi abbiamo sperimentato con un certo successo e sul campo sta producendo dei buoni risultati e adesso nel territorio cittadino è senza dubbio molto conosciuta. Un'altra questione, il programma housing intende sviluppare delle politiche abitative anche per quel segmento di popolazione che non è soltanto in una condizione di stress abitativo, quindi ha poca capacità di spesa, ma anche alle spalle dei percorsi complicati, per cui insieme alla ricerca di casa c'è una ricerca di affermazione e integrazione sociale. Da questo punto di vista un piccolissimo esempio che non ha senza dubbio la forza nei numeri di essere messo a sistema, ma è un'esperienza assolutamente positiva, ed è il progetto di Casa dell'Opportunità, è un progetto destinato invece a un nucleo piccolissimo di coabitanti, tre giovani provenienti dai circuiti penali o civili, quindi ragazzi che hanno un percorso alle spalle pesante e che non avrebbero assolutamente la forza per mettere su casa da soli, né dal punto di vista economico, non ci starebbero assolutamente con i canoni di mercato ad affittarsi casa, ma non hanno ancora, non hanno neanche, insomma, le capacità per essere così autonomi nel gestirsi casa. Questa è un'esperienza che si è resa possibile, benché piccola, grazie a un'incubazione di una buona idea, ed è realizzata attraverso la collaborazione tra il programma housing che la sostiene dal punto di vista metodologico ed economico e il centro di giustizia minorile del Piemonte-Valle d'Aosta che ha messo a disposizione un appartamento confiscato alla mafia, quel di Torino-Sud, insomma, di Mirafiori, e una cooperativa del terzo settore, la cooperativa è esserci capace di gestire l'accompagnamento sociale, come diceva prima la collega che ha parlato, cioè l'accompagnare all'acquisire le competenze utili a viversi bene la casa, a vivere al meglio in un condominio senza la guida di un educatore. Anche l'Italio, assolutamente, una delle esperienze a nostro avviso di maggiore rilievo di cui, come dire, che stiamo studiando, quindi non è nostra, non siamo noi soggetti realizzatori, ma speriamo di riuscire a sostenere con tutte le nostre forze, che da un certo punto di vista sono anche la possibilità di un sostegno economico a diverse delle sue parti, ma anche accompagnandola da un punto di vista valutativo, sono le esperienze realizzate dalla città di Torino, edilizia residenziale pubblica, della coabitazione giovanile solidale, che implicano la partecipazione di giovani, giovani che vogliano, in cambio di un affitto calmierato, insediarsi in appartamenti, siti, in case popolari, e che quindi abbiano, come dire, la capacità, la forza, la motivazione di fare da buoni vicini di casa, con tutto quello che può essere i rischi, le difficoltà di essere buoni vicini di casa, e accompagnare alla ricostruzione, talvolta, dei legami di quelle comunità, di quei contesti, che sono contesti molto complessi, dove le parole d'ordine sono la solitudine, spesso l'isolamento, spesso anche dei meccanismi violenti di relazione. In tutto ciò, il progetto realizzato dal Comune di Torino, con la collaborazione dell'Agenzia Territoriale Casa, ha visto la possibilità di realizzarsi, dal 2006 ad oggi, in sei contesti diversi della città di Torino, è un'esperienza che nasce da un virtuoso matrimonio tra una sensibilità politica della nostra amministrazione e dalla proposta che è arrivata dal basso. L'associazione prima che ha chiesto di poter sperimentare questa vita di co-housing a beneficio di contesti complessi, come quelli delle case popolari, è stata l'associazione ACCOMOS, che credo, insomma, sia stata forte delle proprie esperienze prima di partecipazione attiva, riteneva che potesse essere uno strumento di costruzione di cittadinanza e quant'altro. Ora, i soggetti implicati in questa faccenda sono più di uno, sono quattro enti del privato sociale, Cooperativa Sinergica, Cooperativa Punto, Cooperativa Liberi Tutti, io ci tengo a citarli perché sono loro che fanno la differenza in questi spazi, accompagnando i ragazzi, alcuni dei quali sono presenti in sala là in fondo, le ho viste dall'altra parte di su, sono loro quelli che contribuiscono alla ricostruzione di questi pezzi di città difficilissimi. Il nostro è chiaramente un privilegio, quello di poterli vedere da vicino nel loro vivere quotidiano, con le loro difficoltà e con tutto l'entusiasmo che ci mettono. Il nostro ruolo è quello davvero privilegiato di offrire una serie di supporti consulenziali, che talvolta appunto abbiamo potuto inventarci dei modi per riuscire a sostenere anche le loro esperienze. In questo caso mi sembra che davvero il matrimonio sia molto virtuoso, tra pubblico e privato sociale e spontaneo desiderio di partecipazione. Io non mi posso direi addentrare troppo, però colgo ancora l'occasione per dire che Torino, da questo punto di vista, non me ne voglia la collega di Milano, è un laboratorio di esperienze che talvolta facciamo fatica a raccontare e riconoscere, ma sono di grandissimo rilievo. Quindi grazie per questa occasione, grazie ancora ai ragazzi che stanno facendo queste cose, e mi concludo qui. Grazie Isabella Brossa, che appunto ha dovuto anche resettare il suo intervento in base alle condizioni. Allora, le conclusioni a Stefano Boeri. Cito una frase dell'intervento di Lafon. La festa è finita, il gioco si fa duro, quindi adesso... È finita da tempo la festa, quindi io penso che il problema sia quello di provare a fare uno sforzo, che è uno sforzo che dovrebbe fare soprattutto la politica per smetterla di guardare le cose a compartimenti stagni. Provo a dire cosa... Penso anche da quello che abbiamo sentito tutti insieme. Allora, prima cosa. Non c'è alcun dubbio che ci sia oggi in Italia un problema di edilizia economica e di edilizia residenziale pubblica, che è altro dall'ausine sociale. E questa cosa va detta con chiarezza bene, perché altrimenti ci confondiamo le idee, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista delle politiche attuali. L'edilizia residenziale pubblica è un grande progetto politico, anni 60, 70, primi anni 80, che ha cercato di dislocare nelle periferie urbane italiane, nel periodo in cui questa cosa veniva in forma molto più importante in altri paesi europei, come pensata la Francia, per citarne uno, una serie di grandi complessi residenziali destinati soprattutto all'emergenza abitativa, con l'idea di fondo che dovesse essere un'emergenza temporanea, residenzialità temporanea. È stato un grande progetto politico di investimento dello Stato, che ha realizzato in Italia qualche cosa come un milione e duecentomila alloggi, un valore attualmente patrimoniale intorno ai 230 miliardi di euro. Oggi questo patrimonio è un patrimonio che ha un grado di degrado, sofferenza e morosità spaventosa. Ci sono 700 mila persone in graduatoria con una media di ingresso hanno intorno alle 700 unità. Ci sono dati sulla morosità a Milano che è circa il 50% del pagamento degli affitti. c'è una condizione energivora che vuol dire che gran parte di queste alloggi hanno un costo di manutenzione spropositato. Però c'è un problema, perché quel tipo di edilizia rispondeva a una domanda di emergenza abitativa che non è finita, è tutt'altro, è cresciuta. E questo lo dicono le graduatorie, lo dicono i fenomeni di cui parlerò magari un attimo alla fine di baraccopoli, slam, bidonville, che sono presenti anche intorno alle città italiane o dentro le città italiane. Quindi quel tema lì c'è. Non è che possiamo dimenticarcela. È un tema fondamentale. Che alcuni paesi europei hanno cercato di risolvere quello del degrado, di questo patrimonio utile. L'hanno cercato di risolvere. In Francia hanno fatto una grande politica sull'energia accostandola a quella dell'edilizia sociale. Cioè hanno pensato che intervenendo attraverso facciate coibentanti di maggior efficienza che davano anche uno spazio aggiuntivo agli affittuari, si poteva intervenire sul patrimonio pubblico aumentando nel valore e rispondendo a una delle grandi questioni che è il costo eccessivo dal punto di vista dell'energia e del consumo. In altri paesi hanno continuato a sviluppare edilizia pubblica. Noi abbiamo smesso ormai da anni farlo e non c'è oggi una politica integrata, seria, sul recupero di questi grandi edifici. E questo è un problema perché l'audito sociale non risponde a questa cosa. L'audito sociale non risponde all'emergenza abitativa. L'audito sociale è un'altra cosa, fondamentale, perché risponde a quella fascia di povertà o certo medio impoverito che è fatto dalle giovani coppie, dalle famiglie emigrate, da chi ha un lavoro precario, che da un lato spesso ha un reddito superiore di circa 16.000 euro che sono al tetto dell'edilizia regenziale pubblica, ma certo che non accederà mai al mercato. Questa fascia si è enormemente dilatata negli ultimi anni. Per questo l'audito sociale è importante. Certo, è una forma, come dire, è un'impresa, è un privato sociale che ha una reddittività intorno al 4-5%, quindi non è che non ci sia una reddittività, ma che dà spazio, abitazioni, spesso sperimentando forme molto interessanti di accompagnamento all'abitare, che tra l'altro sarebbe interessante portare in alcuni casi il successo dentro nell'edilizia sociale tradizionale, e che sono innovative e quindi è una parte fondamentale. Nei paesi del nord, dove è nata l'audito sociale, queste sono pratiche diffuse, per cui, non lo so, faccio un esempio, quando si sente dire che finalmente si cerca di risolvere il problema dell'amorosità, non solamente con gli sgomberi, che guardate bene in alcuni casi, quando si tratta di malavita organizzata, come nella maggior parte dei casi, sono necessari, perché oggi abbiamo una situazione folle di legalità diffusa inaccettabile, ma quando si cerca di risolvere il problema dell'amorosità chiedendo agli inquilini di intervenire col proprio tempo di lavoro, si dà una forma di risposta a un problema usando un'esperienza che è nata da un'audito sociale e che si riporta all'edilizia popolare. Sono due campi diversi, però tutti e due hanno la loro utilità, tutti e due dovrebbero essere sviluppati, tutti e due sono pochissimo sviluppati in Italia. Poi c'è il terzo tema, che è quello dell'edilizia libero mercato, e qui abbiamo un problema, se volete, ed è uno stock abitativo che è per larghissima parte non usato, dismesso, vuoto, sfitto, invenduto, Torino, Milano, Roma, Napoli, sono dati impressionanti, impressionanti. E cosa succede? Cosa sono grandi proprietari? Ma no, sono una moltitudine di piccoli proprietari che non si fida più, che ha paura, che preferisce avere l'appartamento sfitto o non venderlo, perché non si fida del libero mercato, non si fida delle coccanone, non si fida delle forme di gestione. Allora, questa grande questione dell'abitare, ricordando sempre come dice il titolo di una delle cooperative proprietari di Vitas che ha lavorato in maniera più straordinaria secondo me in Italia che è Darcasa, che da 30 anni lavora per Darcasa agli immigrati, le città non sono fatte di abitazioni, sono fatte di abitanti. E proprio perché sono fatte di abitanti il nostro deve essere uno sguardo capace di cogliere in tutto in tema le sfaccettature di questa cosa, non di pensare che si lavora solo nell'audi sociale dimenticandosi che c'è un'emergenza abitativa o che si pensa di ideologizzare le abitazioni abitativa dimenticandosi che ci sono migliaia e migliaia di famiglie che stanno in mezzo tra il mercato e l'edilizia sociale. Oppure, ripeto, che non si guardi al fatto che bisogna trovare delle politiche per recuperare questi spazi sfitti invenduti dico anche gli uffici che sono un patrimonio unico privato frammentato inutilizzato e inutilizzabile perché la parte di loro hanno una dimensione che è occolutamente incongua rispetto agli usi attuali. Quindi la vera grande sfida è una politica sulla casa che in fondo può piacere o non piacere ma quello che è stato fatto negli ultimi mesi è di mettere al centro della politica sul lavoro più lavoratore che il posto di lavoro può piacere o non piacere e qui penso che andrebbe fatto lo stesso sulla casa mettere al centro l'abitante invece che l'abitazione e questa è una grande sfida per tutti noi. Grazie Allora io concluderei anche perché abbiamo la necessità di liberare la sala per l'incontro successivo ringrazio ovviamente i partecipanti per la sensibilità e la competenza con cui hanno trattato il tema mi dispiace anche che ci sia stata una rivendicatoria e che poi si è tradotta in un'uscita quindi c'eramo anche presi l'impegno di cercare di dare una risposta e quindi ricordo che domani la Fondazione Ordine Architetti organizza domani mattina un altro evento architetture resistenti al Teatro Gobetti grazie a tutti per la partecipazione e di nuovo un applauso a chi ai relatori che hanno partecipato all'iniziativa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti